E' lotta al punteruolo rosso il parassita che sta colpendo le palme, fino ad ora solo quelle portoferraiesi, come ci spiegano dal Corpo Forestale dello Stato, che anche ieri è intervenuto in località Sginghetta, per abbattere una palma ormai infestata dall'insetto. Un'infestazione iniziata ufficialmente all'Elba dal mese di ottobre 2013. Il primo caso è stato avvistato a luglio di quest'anno 2013 e le zone colpite sono dalla Padulella, Consumella, Sginghetta, Albereto, addirittura un po' più distante, e poi in centro Portoferraio, Via 20 Settembre, Via Manganaro e Via l'Elba. Le piante in totale sono 9 attualmente colpite, con un avvistamento anche di un singolo animale, sempre in zona limitrofa, e attualmente quelle abbattute sono 5. Uno dei problemi principali che i tecnici si trovano ad affrontare in questa emergenza è l'individuazione precoce dell'infestazione, oltre all'elevato potenziale riproduttivo del rincoforus ferrugineus. Una femmina mediamente può deporre circa 700 uova, da cui poi statisticamente possono rinascere circa 80 femmine che possono continuare il ciclo. Quindi si stima molto facilmente che con un paio di generazioni annue si possono produrre diverse milioni di uova, che quindi potranno andare a infettare successivamente diverse palme. La specie più colpita in assoluto di palma è la palma delle Canarie, la Fenix canariensis, che è tra l'altro la più diffusa, soprattutto all'Elba. I sintomi che indicano o fanno supporre l'attacco da punteruolo rosso sono pochi ma molto significativi. Il sintomo principale è una certa deviazione dell'apice vegetativo, ovvero della freccia, della parte apicale della palma. In pratica si vede un leggero spanciamento e apertura della parte apicale e questo fa supporre la presenza di larve all'interno che hanno già iniziato a mangiare la parte basale delle foglie. Un altro sintomo molto caratteristico che si può ritrovare alla base dei tronchi delle palme colpite è la presenza di camere pupali o bozzoli molto caratteristici, formati da materiale intrecciato, formati dalla larva, che in questo modo riesce a impuparsi e poi a trasformarsi in adulto. Un terzo sintomo però più raro da riscontrare è la presenza di un odore caratteristico di fermentazione. Alla base delle palme possiamo dire anche nauseabondo, cioè non molto piacevole all'olfatto, che è indice di una fermentazione avanzata del materiale organico vegetale. Vediamo che cosa si deve fare in caso di possibile infestazione della palma da parte del punteruolo rosso. Quindi il primo passo da fare è sicuramente avvertire il servizio fitosanitario regionale e in alternativa oppure in contemporanea altri organi che collaborano con il servizio sul territorio, in particolare il corpo forestale dello Stato e i comuni di riferimento. La segnalazione può essere fatta anche per via telefonica, però preferibilmente, soprattutto negli ultimi tempi, si preferisce una segnalazione più formale via mail e possibilmente con foto delle piante sospette o colpite allegate a queste comunicazioni. Una volta effettuata la segnalazione ufficiale del sospetto oppure della presenza riscontrata del punteruolo rosso nella palma, e il successivo passo è un sopralluogo da parte dei tecnici competenti. Successivamente bisogna realizzare tempestivamente o comunque nel più breve tempo possibile gli interventi prescritti, che sono essenzialmente due. L'abbattimento della pianta colpita oppure, ma soltanto in casi limitatissimi e eccezionali, si possono concedere deroghe a tentativi di risanamento. Gli interventi sono completamente a carico dei proprietari o dei tentori a qualsiasi titolo della palma.